Italiani vicini e lontani, buongiorno come state ancora? London One Tour, da London mi trovo a Trafalgar Square oggi vi faccio vedere qualcosa di particolare, per questo bisogna ritornare indietro all'epoca di Sherlock Holmes eh sì, siamo in un'epoca dove ci sono i venturini, ci sono tutte queste carrozze con i cavalli e c'è un luogo, un posto che ancora oggi esiste vi siete chiesti dove andavano a mangiare i venturini di una volta? E i primi taxisti? beh, oggi ve lo faccio vedere perché quel luogo esiste ancora, basta girare perché ora mi gira la testa davvero e ecco la curiosità di oggi, i car men salter erano dei piccoli ritrovi per i vetturini, posizionavano il loro cavallo e le carrozze, le legavano e andavano in una giornata proprio come questa qui, di dicembre, fredda a bere qualcosa, di solito il whisky oggi esistono ancora, ne esistono circa 60 a Londra e sono un po' il ritrovo anche, guardate un po', per i tassisti che vengono qui, parcheggiano e a volte prendono un po' di caffè nella seconda metà del novecento, pensate, in queste casettine erano così famose e così importanti che Winston Churchill, Frank Sinatra venivano addirittura qua a prendere un po' di caffè, un po' di tè e anche a volte un po' di whisky oggi è chiuso, ma durante la settimana spesso è aperta e si può continuare questa tradizione di venire qui e mangiare qualcosa di caldo in questi shelter devo dire che Londra ha sempre delle curiosità nascoste e straordinarie questa era la curiosità di oggi, speriamo che vi sia piaciuta se non vi è piaciuta non fa niente, ce ne saranno tante altre delle curiosità qui a Londra anche sul nostro canale YouTube che mi invito a seguire, a mettere like e a condividere le curiosità di Londra con London One Tour la rubrica di London One Radio On The Road Ciao!